Quest'album ha una grande energia. Sì. Abbiamo iniziato nel 2002, è stata un'idea mia, di Francesco, poi c'era un altro ragazzo che era Matteo Fucci. Poi abbiamo trovato Michele Casini che poi è diventato il batterista e il fulcro della band. Quindi ci siamo trovati, abbiamo registrato la prima volta questo album in una casa in montagna e poi dopo sinceramente non eravamo troppo soddisfatti quindi abbiamo registrato altre due volte fino alla fine abbiamo registrato in presa diretta. Insomma, è stato tre giorni di registrazione e poi un altro giorno per le voci. Quindi alla fine siamo stati veramente soddisfatti dell'ultima versione che era quella più vera, quella che apparteneva di più. Abbiamo dei progetti insomma per l'estate, faremo delle date, abbiamo già contattato della gente, poi promuoveremo in giro il nostro disco e noi siamo molto fiduciosi. Secondo noi è un gran bel lavoro e quindi vedremo un attimo poi come risponde la gente.